Vorrei parlare alle donne dell'automobile. L'automobile è stato lo strumento che ha emancipato la donna perché ha dato la libertà, ha dato la consapevolezza di poter essere indipendente da quell'uomo che marito, padre, figlio, che doveva accompagnarla, che doveva portarla. La donna ha conquistato la sua vera indipendenza grazie a un'automobile. L'automobile è stata la culla, la prima culla, in cui una donna ha depositato suo figlio appena nato. È stata l'accompagnata quando ha portato quel bambino nel primo giorno di scuola. È stato il suo rifugio quando, dopo averlo lasciato, ha asciugato le sue lacrime in quella macchina. È stata forse in una macchina che ha dato il primo bacio a quello che sarebbe forse diventato suo marito. Per cui è riuscita, l'automobile è riuscita nella vita di una donna a conciliare il lavoro, gli affetti, la quotidianità normale, la vita di tutti i giorni. Perché solo una macchina ti consente un movimento, una mobilità individuale che nessun altro mezzo ci può dare. Certamente non sarà il monopattino, non sarà la bicicletta, perché né uno né l'altro ti proteggono e ti danno sicurezza nel momento in cui piove, in cui c'è un traffico caotico, in cui anche per delle ragioni di età, io per esempio non mi sogno neppure di andare in giro su un monopattino. Rischierai la vita. Invece la macchina protegge la vita e chi ha una macchina di molti anni deve capire che oggi la tecnologia, e parlo non solo di auto elettrica, parlo di auto a benzina, di auto diesel, di auto ibrida, di auto elettrica, di tutte le tipologie di motori, sono, proteggono l'ambiente, perché sono moderni, perché sono sicuri. Oggi la macchina è costruita in un modo diverso da come era costruita 30-40 anni fa. E la macchina, io ho visitato migliaia di fabbriche di automobili in tutto il mondo. Mi hanno sempre, mi hanno chiesto, oh, sembrava una missione noiosa. Per me è sempre stata la più esaltante. Soprattutto nel sud Italia, quando io sono andata all'inaugurazione di diverse fabbriche, dopo aver percorso in strade bellissime, in panorami meravigliosi, io ho visto dei... dove c'era nulla però. Improvvisamente in una cattedrale del deserto era una fabbrica. In questa fabbrica c'erano delle donne che si sono avvicinate a me e mi hanno detto, noi signora, oggi abbiamo la possibilità di lavorare. Noi oggi siamo capaci noi a fare la selleria, a fare dei lavori che gli uomini non sono capaci di fare. Perché poi la donna si è sviluppata... anche oggi la donna progetta l'auto. Ci sono le ingegneri donne che progettano l'auto, ci sono le donne che le costruiscono. Ma quelle che mi hanno colpito erano quelle operaie con il camice blu nella catena di montaggio che curavano quell'auto come fosse un pezzo della loro casa, un pezzo della loro famiglia. perché quell'auto addirittura, mi dicevano, io lascio un piccolo segno mio in una portiera che lo conosco solo io perché quell'auto l'ho fatta anche io. Ecco, io non vorrei che queste donne perdessero il lavoro, che queste donne dovessero rinunciare a qualcosa di importante in un momento in cui l'economia di tutto il mondo è allo sballo, siamo in crisi tutti perché questa pandemia non ha solo creato dei problemi a un paese o a un altro, li ha creati a tutti. C'è un dilagare, questa macchia rossa è arrivata in tutto il mondo. Però io voglio sollecitare queste donne a non abbandonare l'auto, a non pensare che in città con la bicicletta, col cestino, ma il suo bambino dove lo lascia, lo mette dove? Quella macchina è la macchina sicura per trasportare le persone che ha nel cuore, che sono care a lei, per cui a quelle persone lei deve dedicare attenzione. E l'auto, ripeto, tutte le auto del mondo, piccole, grandi, SUV, prestigiose, economiche, non ha importanza. È qualcosa che loro devono difendere. Devono difendere, difendono l'economia del loro paese e difendono soprattutto la loro libertà, che hanno conquistato ormai da quasi 70 anni.